Il piano di sviluppo rurale della Lombardia, tra le molte misure, finanzia progetti di informazione e diffusione della conoscenza. Il centro studi, l'uomo e l'ambiente, ha individuato tre tematiche sulle quali concentrare le attività di informazione e diffusione della conoscenza. Il suolo agrario, l'ambiente che accoglie l'attività di coltivazione agricola. L'acqua, la risorsa indispensabile per lo sviluppo e la resa delle coltivazioni. I fitofarmaci, fattori produttivi necessari, il cui uso ha riflessi non sempre positivi sulla salute umana e ambientale. E i metodi innovativi tesi a limitarne, regolarne, superarne l'uso. Le attività. Redazione e invio di una newsletter informativa, innovazione e tecnologia in agricoltura e ambiente. Redazione e pubblicazione sul sito web di un e-book di approfondimento sui temi di progetto. Realizzazione di seminari informativi durante fiere agricole e zootecniche. Realizzazione di un video illustrativo delle tematiche che verrà pubblicato su web. L'attività informativa è rivolta in particolare ai giovani che trovano occupazione in agricoltura, sia come imprenditori che come addetti, dotati di passione e competenze, sufficienti a ridare al settore primario l'importanza economica e sociale persa negli ultimi decenni.